Femminicidio a Pietragrande lo sfogo della sorella Giulia per il mancato appello della procura. Femminicidio è una piaga che riguarda la nostra società. In un momento storico come questo, dove si cerca di arginare, di contenere questo fenomeno, vediamo invece delle pene che, oserei dire, sono vergognose. Nello specifico mi riferisco alla pena di 25 anni che è stata data dalla Corte di Assise all'assistino di mia sorella, Sergio Giana, benché il pubblico ministero ne avesse chiesto l'ergassolo. Questo ci ha lasciato la mare in bocca come famiglia, ma ancora più basiti e ancora più sconcertati ci ha lasciato l'atteggiamento del pubblico ministero che è la dottoressa Anna Chiara Reale che non ha impugnato la sentenza e non ha richiesto l'appello malgrado l'istanza di sollecito che avevano prodotto i nostri avvocati, l'avvocato Arturo Bova e l'avvocato Antonio Ricupero.